Questa è una regione sana, Ministro. Oltre ad essere una regione molto bella, è una regione resiliente, è una regione che ha saputo sopportare negli anni e anche rilanciare. Ed è una regione che consegue traguardi straordinari e che recupera in questa sala, ma anche oltre questa sala, eccellenze straordinarie, uomini in carne ed ossa, che con i loro sacrifici hanno fatto grande questa regione. E c'è un gruppo diffuso dirigente, non solo impegnato nelle istituzioni, ma impegnato nel mondo che produce, che si è fatto strada in Italia, non solo nel Mezzogiorno d'Italia, in Europa e nel mondo. e abbiamo qui e anche fuori grandi realtà industriali, imprenditoriali, dalla meccanica di precisione, all'automotive, all'osservazione della terra, al digitale, all'agroalimentare di qualità. e questo mondo con questa regione le dà il benvenuto e le consegna l'anelito, l'ansia, il bisogno, la necessità, la volontà di procedere nel solco tracciato, nel tentativo possibile di raggiungere cifre di sviluppo significative per la nostra regione e per il Mezzogiorno d'Italia. E questa regione consegna come l'Italia facce diverse di protagonismo. quelle tratteggiate da Pasquale Lorusso e da Paolo Laguardia che provano nel merito gettando il cuore oltre l'ostacolo a metterci la faccia, a creare animazione, dibattito, discussione anche forte, a mettere in campo proposte e provano a costruire dal metodo al merito con la politica, con le istituzioni, con i cittadini, con gli associati, occasioni di sviluppo, interlocuzioni, relazioni, positive, propositive. E un po' il tempo a cui ha fatto riferimento proprio Paolo, funzione di ponte nel momento della peggiore crisi che il Paese Italia e la politica e le istituzioni hanno consegnato alla nostra società. E c'è una regione che non è qui ma che è nei nostri pensieri ed è nel nostro cuore ed è una regione per fortuna in percentuali ridotte che non ce la fa. che ha difficoltà e quella regione con questa prova a stringersi per mano accorcia le distanze e lancia un monito alla classe dirigente perché possa farcela e lo lancia e lo consegna al nostro tramite e anche alla sua persona dandole il benvenuto ed è la regione che ancora recupera una percentuale significativa di povertà e di disoccupazione. Noi abbiamo bisogno soprattutto un presidente di regione ha bisogno insieme a questi attori di tener conto dell'una e dell'altra parte metterli all'interno di una visione entrambi e provare a spiegare che rafforzando l'intelligenza la capacità innovativa e il coraggio di questi imprenditori si può risolvere anche l'altro problema. Sicuramente è abbandonando il vecchio paradigma con il quale abbiamo vissuto 40 anni o 50 di storia democratica in Italia quella della stretta di mano e della pacca sulla spalla che risolviamo sicuramente i problemi di questa nostra Italia e noi dobbiamo avere il coraggio di assumere nelle nostre azioni programmatiche esattamente questa impostazione e c'è all'interno di questa società quella che produce proposte che si siede spende se stesso e investe ogni energia per potercela fare che va sottolineato l'impegno di Confindustria e di Pensiamo Basilicata lo dico a Pasquale Lorusso e a Paolo Laguardia con cui ho condiviso momenti di forte animazione di dibattito di momenti bui di questa nostra regione momenti di grande difficoltà Raffaele e però con loro con le parti sindacali abbiamo provato a rilanciare a ricostruire come dire un patto che recuperasse questa nostra regione questa nostra società e gradualmente dalle macerie e la riportasse alla luce tanto da farle conseguire risultati straordinari io mi rivolgo particolarmente a questa parte di società perché per costruire sviluppo e vincere le sfide difficili di questo tempo abbiamo bisogno di muratori abbiamo bisogno di carpentieri specializzati non abbiamo bisogno di martelli pneumatici che demoliscono abbiamo bisogno di uno sguardo lungo abbiamo bisogno di maggiore autostima abbiamo bisogno di crederci e io con loro sono uno che ci crede e poco conta ministro se in Italia come in Basilicata c'è una piccola dose di sciacallaggio direi quasi fisiologica una sorta di valore di fondo mettiamola così ai quali valori di fondo noi dobbiamo non guardare non dobbiamo neanche amplificarli ad un amico che mi ha accolto affettuosamente venendo qui mi chiedeva e che mi chiedeva ma il ministro è arrivato puntuale nonostante la basentana mi sono permesso sorridendo di rispondere sì è vero nonostante la basentana ma se i lavori sono iniziati soltanto in questo tempo e per 40 anni qualche di uno se ne è dimenticato non è colpa nostra noi li abbiamo fatti e senza alcuna polemica continuo a dire non è con la guerra tra poveri non è con il linciaggio comunicativo che vinciamo la sfida culturale di responsabilità di questa nostra regione di questo nostro paese Italia e con la politica del fare con la costruzione meticolosa difficile complicata che ci affianca a chi non ha nulla e a chi può consentire progredendo di fare molto per sé per coloro i quali lavorano con quella persona e per coloro che non hanno nulla come proviamo a spiegare che questo paese ha bisogno esattamente di questo afflato come posso trasferirvi e chiedere a vostra di trasferire questo messaggio ai cittadini più fiducia più incoraggiamento più responsabilità e allora mi rendo conto che la fatica va centuplicata il lavoro va moltiplicato a dismisura e se c'è una regione che parte o che riparte e se c'è un mezzogiorno che fa recuperare che recupera numeri positivi finalmente dopo anni di numeri negativi è perché c'è un paese Italia che è ripartito ministro ed è ripartito possiamo in tante cose non essere d'accordo ma è ripartito perché c'è un governo che sta tentando di farlo ripartire e non è questione di colore non è simpatia per il ministro Calendo per il primo ministro presidente Renzi è oggettivo che se per 40 anni o per negli ultimi vent'anni abbiamo vissuto di grande fratello di isola dei famosi di crisi psicologiche e non abbiamo affrontato prendendo il toro per le corna le grandi riforme di sistema le abbiamo messe in campo abbiamo fatto finta che non necessitava in un paese come il nostro porre il tema e l'accento su questo tipo di azione politica e programmatoria e oggi lo facciamo in due anni possiamo pretendere dal ministro Calenda dal governo Renzi che in due anni si rivoluzioni il mondo e si risolva il problema che per 40 anni ha distinto questo nostro paese eppure loro ci stanno provando e se la Basilicata ce lo dice la Svimez consegna ai nostri cittadini nel mezzogiorno d'Italia un primato recupera 5.5 più di pil e viva Dio sono stati sette anni di segno negativo siamo stati a meno 6 meno 5 meno 4 meno 3 noi governiamo da qualche anno ci ritroviamo a 5.5 certo ci siamo meritati l'undicesima pagina con un trafiletto piccolo piccolo poco importa proviamo a dirlo casa per casa ai cittadini così proviamo a spiegare il lavoro che stiamo facendo qualcuno forse un giorno ce lo riconoscerà noi continuiamo a farlo a prescindere se ci viene scritto a caratteri cubitali a prescindere dai demolitori di professione noi abbiamo un'altra missione abbiamo un'altra coscienza un'altra consapevolezza un altro cuore e noi che siamo sportivi siamo abituati a cadere e a rialzarci dunque continuiamo ad andare avanti e se questo paese riparte questa regione e questo mezzogiorno ripartono e il tema è ministro Calenda come facciamo diventare consolidato questo dato come recuperiamo annualmente più 3% per intenderci o più 2,7% di PIL annualmente da qui al 2020 cioè come strutturiamo la ripresa questo è il tema e che non sia un fatto occasionale come lo facciamo se non riparte un paese se la Basilicata nel mezzogiorno non diventa insieme alle altre regioni capofila di un valore aggiunto simbolo di un valore aggiunto in un paese che deve necessariamente sfondare in termini di visibilità di credibilità di ruolo determinante in Europa o la competizione globale noi possiamo sostenerla solo e soltanto all'interno Luca di un perimetro regionale come qualche uno pensa di poter solleticare e dire carpendo la buona fede dei nostri cittadini io penso e guardo ad un'Europa all'esigenza stringente determinante che l'Europa continui o ritrovi il sentiero dell'autorevolezza nel rapporto globale delle relazioni dei mercati dei diritti e l'Italia finalmente con lei signor Ministro e anche con il Presidente del Consiglio sta provando a sfondare per la prima volta il muro dell'austerity per la prima volta non è che dobbiamo vergognarci se lo diciamo non c'è niente di male se ogni tanto ammettiamo che per onestà intellettuale che è così poi possiamo non riuscirci ma i soldi che servono a un mezzogiorno d'Italia e all'Italia intera non si mica producono perché vai alla zecca e li riproduci e li stampi tu devi creare esattamente valore aggiunto produzione devi costringere e convincere i paesi europei che attraverso la flessibilità metti in condizione di affrontare problemi sistemici l'immigrazione non è un caso sporadico che si affronta nella regione del mezzogiorno dell'Italia che guarda il Mediterraneo è un problema che riguarda il mondo l'innovazione tecnologica e la ricerca riguarda il mondo riguarda il paese Italia come l'Europa e se perde dopo Brexit la centralità dell'Italia all'Europa la vedo difficile dopo gli esiti delle elezioni in America e io rispetto del risultato democratico di una elezione per quanto sono portatore di una preoccupazione questo mi è consentito ancora in democrazia e se mi è consentito posso provare a dire che la risposta è una Europa più forte più coesa ma che sia non solo un'Europa monetaria ma anche economico finanziaria dei diritti della solidarietà e non soltanto dell'austerity che non serve a nessuno è quello che siamo riusciti ad ottenere in questo tempo è grazie alla credibilità di un paese e un paese non acquista credibilità soltanto perché il Signore ce la dà o la dà a qualche d'uno e perché la classe dirigente che guida e governa questo paese se la merita con il lavoro con i risultati con il coraggio di cambiare i vecchi paradigmi e allora dico noi perché dobbiamo sfuggire alla possibilità dello sviluppo e sfuggire alla possibilità di traguardare il nostro futuro io penso ai miei figli e li guardo e penso che debbano avere le stesse prerogative dei figli dei cittadini tedeschi o francesi e perché noi non possiamo metterli in condizioni di fare ciò ecco perché collego la grande ripresa della Basilicata con quella del mezzogiorno dell'Italia e il ruolo dell'Europa e dico che Industria 4.0 è un segmento importantissimo che può aiutarci molto in questa impresa e provo anche a dire ci vengo molto velocemente che noi recuperiamo quei numeri non certo perché qualcuno è stato buono generoso ce lo ha regalato perché questa regione signor Ministro che che ne dica qualcuno è la regione delle start up centuplica le start up e gli spin off nessuno ha scritto nessuno ha commentato che alla smau di qualche giorno fa la start up premiata è una start up lucana possiamo dirlo con orgoglio perché questa è la regione che prende 120 milioni dei fondi strutturali e non solo e li investe sui PIA ci sono imprenditori che sanno che cosa significa aver messo in campo Raffaele Liberali queste risorse che generano un volume economico finanziario di 400 milioni con l'intervento del privato Pasquale Lorusso e Paolo Laguarda lo sanno e hanno fortemente sostenuto questa iniziativa che generano 1700 nuovi assunti che per le dimensioni di una nostra regione quella appena descritta sul piano demografico non sono poche cose certo non abbiamo risolto tutti i problemi viva Dio l'ho detto l'altro giorno alla Svimez al sottosegretario dei vincenti prima che chiudesse nei complimenti di un'Italia alla Basilicata mi sono permesso di dire noi abbiamo ridotto dal 37% a meno del 24% la povertà certo non abbiamo risolto tutti i problemi l'ho detto in premessa ma possiamo dire che siamo riusciti a fare un passo in avanti o dobbiamo nasconderci anche quando facciamo un passo in avanti siamo riusciti a fare 12.500 assunzioni in due anni a tempo indeterminato e abbiamo ridotto la disoccupazione dal 17,4% al 13% non abbiamo risolto perché non siamo nella media dell'11,4% del Paese ma siamo in una condizione per dire ci abbiamo provato ci siamo riusciti e probabilmente con l'aiuto del Governo nazionale nel rapporto proficuo con il Ministro Calenda perché in questi mesi è stato un rapporto proficuo quello che questa regione come il Paese Italia ha avuto con quest'uomo possiamo traguardare ulteriori risultati e se noi siamo sul fronte di 5 cluster sulla S3 non è una cosa giusto per farla una passeggiatina ogni tanto sull'automotive o sull'aerospazio o sulla bioenergia ci andiamo a fare ogni tanto per perdere il tempo o per occupare lo spazio della nostra settimana c'è chi ci sta lavorando c'è chi ci riconosce in Italia diciamo così ha anche meriti anche un ruolo di prima zia e se noi abbiamo due settimane fa Ministro varato tre bandi due per start up e il terzo per liberi professionisti aprendo quelle risorse anche al settore del commercio evidentemente per un importo di 22 milioni e oltre evidentemente perché abbiamo compreso e colto ascoltato il grande fermento che c'è in questa regione e io sono convinto che questi bandi determineranno fattori positivi valore aggiunto noi abbiamo combattuto a volte a mani nude e ci siamo riusciti l'ultima previcenda che ha determinato diciamo una eccessiva concentrazione di riflettori sulla Basilicata parlo quella legata alle vicende petrolifere signor Ministro per le quali vicende giudiziarie manifestiamo rispetto e totale autonomia noi abbiamo dovuto fronteggiare con grande difficoltà il tentativo di distruggere di polverizzare l'immagine di una regione che è sana che è fatta di persone serie che è fatta di lavoratori che non è fatta di ladrungoli che ha avuto la capacità di alzarsi di spiegare che la fragola cantonga prodotta nel metapondino che vando nel mondo prodotta qui signor Ministro non veniva respinta al mittente dai mercati asiatici perché era una menzogna e è stato complicato spiegare a sorgi che Cristo non si è fermato a deboli ed è stato complicato spiegare anche a tanti altri per la verità anche qualche lucano ci sono che hanno avuto il coraggio quasi di individuare una sorta di rivincita sulla storia provando a rifautilizzare quel momento di grande difficoltà che meritava uno slangio di straordinaria solidarietà istituzionale di grande coesione sociale e hanno avuto il coraggio anche di utilizzare quell'argomento solo sperando in una rivincita la storia certo può avere anche ricorsi è così ma è ancora troppo presto perché ce li abbia e qualche uno si deve rassegnare questo ricorso non ci può essere ed è la regione che a fine di quest'anno copre il 74% della popolazione signor ministro con la banda ultralarga notizia interessante almeno queste autostrade non immateriali hanno avuto una realizzazione più veloce perché è uno di quegli strumenti indispensabili presupposto necessario perché industria 4.0 possa creare grande valore aggiunto ed è anche la regione e vado avanti a chiudere che insieme a Friuli rappresenta dalle prime due regioni o la seconda regione sul digitale e sulla scuola digitale e noi abbiamo in animo di varare un grande programma per il quale tutte le classi di tutte le scuole dalle elementari alle medie compreso abbiano a dotarsi di lim di tablet di collegamenti veloci di videoconferenze con le scuole degli altri paesi europei di creare le condizioni attraverso gli ITS attraverso i poli attraverso il ponte scuola lavoro creare le condizioni perché maturi la cultura d'impresa e la cultura d'impresa la stanno facendo questi uomini che sono qui davanti a me che ringrazio e la stanno facendo la classe dirigente che crede in queste potenzialità ma in 40 anni o in 50 anni quale cultura d'impresa abbiamo costruito nel mezzogiorno d'Italia quella della pacca sulle spalle o della partecipazione statale perché questa è la verità oggi stiamo cambiando paradigma e c'è una difficoltà a farci seguire e per farci seguire dobbiamo prendere questo muscolo e provare a gettarlo oltre l'ostacolo provando a non ascoltare quando quelli ti degrigliano quando ti provano a farti rimanere solo perché la solitudine ti dà tristezza poi ti affanna ti demolisce ti deprime ti rende un uomo nullo ti fa pensare a cose negative questa è diciamo la reazione ragionata non di pancia e noi andremo avanti e andremo avanti nel cogliere anche le opportunità come abbiamo fatto io sono uno di quelli che l'ha seguita a Milano nella sua presentazione e non solo nei numeri nei dati nell'impostazione ho provato a ricostruirla ho provato a maturarla a digerirla come chi mi ha preceduto ma non le voglio togliere spazio e non le voglio togliere ovviamente argomenti se anche volesse non sarei in grado rispetto alla sua levatura mi permetto soltanto di dire che anche in occasione del ragionamento svimez qualche proposta è stata avanzata signor Ministro ed è stata avanzata proprio rispetto alle esigenze del Mezzogiorno d'Italia che recupera per la verità in legge di stabilità tanto il bonus assunzioni al sud quando il bonus tirocinio garanzia giovani che non è cosa di poco conto ma ce ne sono almeno tre o quattro che vorrei per titoli consegnarle l'implementazione del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo dei competence center per il Mezzogiorno d'Italia prevedere un finanziamento a tasso zero per le imprese del sud l'istituzione di centri di assistenza tecnica per le PMI e le zone economiche speciali legate alla logistica avanzata nel mezzogiorno sono quattro temi grossi sui quali sono certo il governo e la sua persona non si sottrarrà al dialogo alla discussione al dibattito all'approfondimento noi abbiamo bisogno esattamente di questo e badate bene noi abbiamo braccia e testa finalmente più consapevolezza passiamo dal fallimento del federalismo del luogo della inconcludenza alle regioni che vogliono fare e che sono responsabili che non piangono una manciata di denaro in più pur che sia per finanziare una sagra o non so quale altra cosa noi chiediamo esattamente le attenzioni anche normative perché questo mondo possa cogliere quelle attenzioni e non necessariamente traducendosi in denaro chiudo dicendo c'è un vecchio non vecchissimo film dal titolo io non ho paura e le dico ministro che io non ho paura veramente e con me tutti non hanno paura c'è una regione che ha deciso di cambiare di modificare il paradigma di non stare lì a pietire ma di imporsi per le cose positive che fa per la qualità del suo intervento e ha deciso di andare avanti senza paura e con coraggio anche ignorando chi sfila la notte quando tu tessi il giorno provando a dare alla politica e a restituire alla politica quel rapporto con i cittadini fatto di fiducia di credibilità valori che vanno recuperati necessariamente e possibilmente vanno recuperati nel rapporto di sincerità con questa nostra società italiana e lucana basta mentire alla gente per guadagnare un consenso facile domani proviamo a dire alla gente che alcune cose che si sono fatte nel passato non si possono più fare siamo in un altro tempo in un altro mondo e in questo tempo e in questo mondo c'è bisogno signor Ministro di recuperare quella responsabilità mista alla pazienza di sopportare perché ognuno di noi porti avanti le riforme di sistema e se posso consegnarla col coraggio che ci appartiene un messaggio lo dica il presidente Renzi vada avanti come un carro armato come faremo noi in Basilicata finché avremo vita mantenendo la schiena dritta il coraggio delle nostre idee e parleremo anche senza guadagnare voto o consenso quel consenso che oggi sembra essere perduto attenzione lo guadagneremo dieci volte in più domani quando i nostri figli potranno vivere senza partire in questa terra meravigliosa che è la Basilicata e che la accoglie con grande affetto grazie